Ciao ragazze, allora nuovo video, questo come avete detto dal titolo e come vedete dal nuovo volantino sarà il video riguardante tutti i nuovi capi, quindi le nuove uscite di abbigliamento Esmara by Egy Plum che troveremo in tutte le filiali Lidl dal 17 di settembre naturalmente sarà, come potete intuire benissimo anche da questa foto, la nuova collezione appunto autunno-inverno 2018 firmata naturalmente Esmara by Egy Plum infatti troveremo dei capi davvero molto carini, a prezzi ottimi e con colori non proprio 100% autunnali almeno non proprio tutto per prima cosa troviamo ben 5 canotte da donna sono queste qui, taglie dalla 36 alla 46, prezzo 4,99 euro l'una e naturalmente sono disponibili in 5 colori nero, rosso, nero in velluto, color sabbia e viola il secondo prodotto che riporta al volantino della collezione Esmara è il vestito da donna misure dalla XS alla L, prezzo 9,99 euro e come potete vedere è un vestito a maniche lunghe e collo alta disponibile in 3 colori, color rosso magenta, nero e havana io grazie a Lidl Italia ho avuto la possibilità di ricevere in anteprima alcuni pezzi di questa collezione ringrazio come sempre tantissimo il team di Lidl per questa opportunità anche perché in questo modo anche voi riuscite a capire bene taglie, prodotti non proprio su una persona che è filiforme, che ha una taglia super regolare infatti io ci tengo a precisare, normalmente quando vesto porto una 44-46 e in questo caso ho ricevuto di ogni capo che vi farò vedere delle taglie diciamo un pochettino diverse del vestito ho ricevuto la taglia L, naturalmente 46-48, spagnola, italiana e portogallo 44-46 europea, sempre nel colore nero, maniche lunghe e collo alto e il vestito nero in questione è questo il tessuto 70% viscosa e 30% poliamide è abbastanza largo, forse per me avrei scelto una taglia in meno avrei preso sicuramente magari una M perché comunque sono bassina e questo vedete anche nella clip dei vestiti indossati mi arriva quasi sulle ginocchia per il resto vedete, essendo un pochettino largo rimane morbido se avete comunque una 44-46 italiana vi consiglio di prendere sì o una M o se lo volete più largo e più lungo una L seguendo l'ordine del volantino per 7,99€ abbiamo la sciarpa da donna misure uniche, 70x180, viene 7,99€ e sono disponibili tre colori una nera pois, una diciamo bianca e nera a righe mentre l'ultima nera e color bordeaux, tutte con rifiniture rosse come potete vedere ne ho ricevute ben due e sono davvero molto molto contenta perché sono prodotti bellissimi in primis qui abbiamo la sciarpa, quella color borgogna nera e rossa che scartiamo insieme il tessuto è 100% poliestere, sì e ragazze c'è davvero molto molto bella è lunghissima, guardate, molto carina e secondo me per l'inverno è davvero un prodotto fantastico la seconda sciarpa invece è quella bianca e nera sempre naturalmente taglia unica sono anche molto grandi e questa cosa mi piace molto e ragazzi questa è davvero bellissima ha sempre le famose rifiniture e appunto ha tutti questi giochi bianchi e neri al centro secondo me anche quella a pois nera e bianca è davvero bellissima terzo prodotto della collezione sono questi jeggings da donna taglia XSL prezzo 7,99 euro proseguiamo poi con 14,99 euro taglie XSL con il mazzi cardigan da donna che è disponibile in due colorazioni nero e amaranto mi hanno inviato la taglia M che è la 4244 nel colore nero devo dirvi che su di me poi vedrete anche naturalmente tutti i vestiti indossati è un pochettino grande essendo io bassina avrei preso sicuramente una taglia in meno una S però in vita sui fianchi è perfetto il prodotto in questione è questo maniche lunghe nella parte anteriore ha questa taschina molto molto pratica comunque vedrete che indossato è tutta un'altra cosa davvero molto bello e soprattutto molto caldo ancora 14,99 euro c'è il cardigan da donna misure XS M e è questo fucsia con un bottoncino qui al centro sempre maniche lunghe nella pagina successiva troviamo poi per 7,99 euro la camicia da donna misure 36,46 disponibili in tre colori rosso, fucsia e nero i jeans super skinny da donna misure 36,48 prezzo 12,99 euro disponibili in tre colorazioni grigio scuro, nero e bordeaux per 9,99 euro sempre taglie XSL troviamo dei maglioncini pullover da donna molto carini due senza collo, quindi collo normale nelle colorazioni nero e amaranto due invece con il collo alto uno fucsia e uno havana e come potete vedere tutti e quattro comunque i pullover hanno sia sulle maniche che sulla parte diciamo inferiore un elastico modellante di questi pullover ho ricevuto questo fucsia nella taglia L46,48 italiana, spagnola e portoghese 44,46 invece europea devo dirvi che è uno dei capi che maggiormente mi è piaciuto forse anche questo vedrete anche nella clip indossato un po' troppo grande ma a me non interessa perché comunque io lo porto magari l'inverno con i leggings sono molto più comoda il tessuto è 50% viscosa 30% poliestere 20% poliamide tiene molto caldo il colore è davvero molto carino mi piace molto ma secondo me il capo più bello di tutta la collezione è naturalmente il trench prezzo 24,99 euro disponibile nelle misure dalla 36 alla 46 e in tre colori rosso, havana e nero per la collezione invernale 2018-2019 troviamo la maglia da donna prezzo 7,99 euro disponibile dalle misure XS la misura L come potete vedere ho ricevuto la misura M e la maglia in questione è questa molto bella maniche a tre quarti diciamo corte collo un pochettino accennato anche questa all'elastico nella parte finale infine ho visto due prodotti di cui già vi avevo parlato in uno dei vecchi video e sono questi giubbotti da donna a 16,99 euro e le scarpe con tacco a 14,99 euro vi lascio come sempre il video qui sopra allora in generale posso dirvi che sono rimasta abbastanza colpita da questa collezione anche se personalmente non adoro moltissimo i capi diciamo col collo alto comunque con il collo un pochettino accennato forse avete visto anche nei video che non li indosso quasi mai perché spesso mi danno fastidio alla gola però con questi mi sono trovata abbastanza bene perché nonostante il collo sia un pochettino accennato non tira tantissimo e poi comunque con il lavaggio ho visto che tendono a diventare più morbidi in questa parte per il resto sono davvero molto soddisfatta anche le taglie che mi hanno mandato tendono a essere un pochettino grandi io sono contenta perché in questo modo posso abbinarli anche meglio vi consiglio assolutamente questa collezione soprattutto per i trench che ragazzi io voglio assolutamente provare e andare a vedere poi naturalmente per le magliette questa rossa secondo me è qualcosa di spettacolare e anche sono molto incuriosita dai jeggings perché comunque spesso questo tipo di pantalone lo utilizzo per lavoro perché comunque è molto comodo anche le sciarpe su tutte e tre sono molto belle e soprattutto i prezzi sono davvero molto vantaggiosi fatemi sapere naturalmente qual è il capo che vi è piaciuto di più di tutta la collezione cosa acquisterete voi vi mando come sempre un bacio grande ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche lasciarmi un bel pollice in su di supporto e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video ciao